Allora facciamo così, adesso parliamo un po' di Serie A perché abbiamo un momento importantissimo dedicato a Domus Bet e io devo dare la parola, sicuramente visivamente meglio di me, se no stiamo con la telecamera su Valentina Disca, ma diamo la linea a Clelia Filetti perché Domus Bet deve darci la sua schedina e la dobbiamo commentare con i pronostici dei nostri ospiti. Sì grazie Attilio, buonasera a tutti e questo è il primo appuntamento con la speciale Daily Bet di Domus Bet all'interno del Catania Social Club. La Daily Bet è l'opportunità che settimanalmente Domus Bet offre ai suoi clienti registrati di giocare insieme a noi. Ma come funziona la Daily Bet? Basta giocare la nostra sestina su domusbet.it e tentare la fortuna insieme a noi. Ma c'è di più, perché la Daily Bet è anche assicurata? Infatti Domus Bet offre il rimborso del 100% della giocata nel caso in cui non indoviniamo nessun pronostico e il 50% nel caso in cui ne sbagliamo soltanto uno. Da questa sera la Daily Bet la compiliamo insieme ai nostri ospiti del Catania Social Club. Infatti ognuno di loro cederà il pronostico su una delle partite della sestina che poi giocheremo tutti insieme. Le partite di questa sera sono Napoli-Sampdoria, Spal-Torino, Milan-Atalanta, Genoa-Benevento, Sassuolo-Inter e Juventus-Roma. Bene, dimmi, che le dici se cominciamo con il primo ospite? Certo, subito, immediatamente. Ragazzuoli, il pronostico. Partiamo con il direttore Santo Palma. Napoli-Sampdoria, dai. Beh, questa è una bella partita. Sicuramente può essere con tanti gol. Quindi un over pieno, secondo me. Quindi dai tre gol in su. Sì, assolutamente. Peppe Fornito, Spal-Torino. Eh, secondo me faranno tanti gol. Direi gol. Gol. Quindi segnano tutte e due. Sì, sì, segnano tutte e due. Daviduccio-Baiocco. Una partita difficile. Milan-Atalanta. Sì, ma quello che pensi, eh? Quello che penso. Beh, visto gli ultimi risultati, credo anche qui, tanti gol, quindi almeno over due e mezzo. Over due e mezzo. Quindi secondo te è un over pieno? Pieno, sì. Gattuso ha preso belle tre pappine, eh, avvero? Ma anche il tuo amico De Zerbi. È un mio amico. Sta continuando la striscia. Ma non è anche amico tuo? Ma non è anche amico tuo? Lui è amico quando vince. Quando perde diventa anemico di tutti. Senti, sa solo Inter invece, Spinesi? Sassuolo Inter? C'ho tanti amici interisti e quindi dico due. Però io spero tanto che non accada questo e che il Napoli vinca. Ah, ok. Perché io ho figlio, moglie, mezzi dei miei parenti sono napoletani, quindi ti fanno per il Napoli. Allora, intanto poi c'è Genova a Benevento, vado contro De Zerbi, quindi dico uno. E poi invece tutti insieme, secondo voi, Juve-Roma come finisce? Forza. Beh, Juve-Roma è tosta. Secondo me è uno, eh. Uno, fornito. Io dico X. Io anche X. Ma Junk? Penso che alla fine posso uscire un X, anche se la Juve è in crescita, però la Roma secondo me... Bomber, potrebbe uscire l'X, ma la Juve queste partite poche volte lo sbaglio. Allora, ci sono 2-1 e 3-X, vince la X. Cleia, quindi andiamo a ripetere un po' questa schedina offerta da Domus Bet. Certamente. Allora, Napoli-Sampdoria over 2,5. Spalto-Rino gol. Milan-Atalanta over 2,5. Genoa-Benevento 1. Sassuolo-Inter 2. Juventus-Roma X. Bene, adesso è arrivato il momento di tentare la fortuna tutti insieme con i pronostici dei nostri ospiti e quindi di giocare la nostra speciale Daily Bet di Domus Bet su domusbet.it. Infatti, se non siete già clienti Domus Bet per giocare, basta semplicemente registrarsi inserendo il codice IATO1051 nella sezione delle scommesse sportive che troverete stasera nella pagina Facebook di Domus Bet. Daily Bet speciale Catania Social Club è l'appuntamento fisso con la fortuna che torna la prossima settimana. Grazie.